Buonasera. Allora, la Repubblica... Ciao, buonasera. Buonasera. Vorrei chiederti subito le tue sensazioni del debutto con il Napoli e che prestazione è stata questa contro il Barcellona. Grazie. Ma guarda, intanto ti voglio dire che il nostro pubblico è stato fantastico perché nella prima mezz'ora dove eravamo veramente in difficoltà non ho sentito un fischio e questo non è da tutti. Per cui ringrazio i tifosi che hanno aiutato la squadra anche nel momento più difficile. Comunque quello che mi è piaciuto è stata la voglia di voler recuperare la partita. Chiaramente dobbiamo lavorare tantissimo a livello tattico. ho avuto buone risposte da chi è subentrato e di questo... sono molto contento di questo. Sì, scusa Monica, c'era prima il Corriere della Sera e poi dopo il signore Sofra. Salve. Eccomi qua. Salve. Una partita al di là del risultato che ovviamente è importante per il Napoli con tante fasi, no? Una fase di grande sofferenza, di spazi tra le linee, poi il gol e la reazione immediata anche un po' disordinata se vogliamo questa reazione. Poi il rischio addirittura di poterla vincere questa partita. Un puzzle. La sua sintesi e soprattutto su cosa principalmente bisogna lavorare? No, tu hai detto precisamente quello che io penso perché io ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta perché loro giocano con un trequartista, lo cercano tantissimo per cui volevo una squadra stretta e corta. La prima mezz'ora non l'abbiamo fatto. Abbiamo subito i cambi campo che sappiamo che loro fanno se non mettiamo pressione davanti perché non abbiamo messo pressione. Chiaramente siamo andati in difficoltà con una squadra che ci lavori da due giorni e basta. Però io sono molto contento perché sta squadra ha dimostrato che non vuole mollare, che ha voglia di mettersi a posto, di uscire a questo momento difficile. È chiaro che potevamo perderla, però l'abbiamo pareggiata e alla fine pensavo anche che potevamo vincerla. Però sono soddisfatto. Nome e cognome testata. Sì, holla, Xavi Lemus, di TV3. Sì, le chiedi a preguntar se il risultato, il empate, fa che, di cara al partito di volta, di una forma, il Barca lo affronte con un rol un po' più di favorito che il Napoli, tenendo in conto questa circunstanza, o il fatto che ora i gols, fuori di casa, non tenen un valore doble, fa che pensi che la eliminatoria continua ugualata? Grazie. Ma è chiaro che giocare a Barcellona è difficile per tutti. Questo pareggio ci tiene in corsa. Noi vogliamo passare il turno perché il Napoli deve aspirare a passare il turno. È chiaro che Barcellona avrà le nostre stesse intenzioni, per cui sarà una partita difficile per noi, ma noi vogliamo assolutamente migliorare quello che abbiamo fatto stasera perché ci sarà qualche settimana ancora e possiamo lavorare un pochino di più. Mario Fabrioli di Leggo, buonasera. Volevo sapere, in 20 giorni, quanti ne mancano più o meno al ritorno, cosa ritiene di poter fare? Qual è il tipo di lavoro che in 20 giorni è possibile sviluppare in una squadra che sa come si gioca il 4-3-3 e che ha anche esperienze internazionali? E' chiaro che questa squadra in questi mesi ha cambiato spesso modulo, magari perdendo delle certezze. Ora siamo tornati a fare 4-3-3. Ogni allenatore ha le sue idee. Io voglio molto ordine in campo. C'è poco tempo, però lo sapevamo. Lo sapevamo, io lo sapevo, però penso che possiamo migliorare. Non so quanto, perché dipende anche da altre cose, però sicuramente possiamo migliorare. Buonasera, mister. Complimenti per la prestazione. Le voglio chiedere di Raspadori. Lo ha schierato esterno destro nel 4-3. Ora, stante chiaramente la presenza di Osimena, è quello il ruolo che lei vede per il ragazzo, anche diciamo in un'ottica futura? O se magari, per esempio, anche come centrocampista, in questo 4-3-3 nuovo potrebbe ritagliarsi un po' di spazio? Grazie. Raspadori è un giocatore di grandissima intelligenza e di disponibilità. Ha le qualità per giocare in tanti ruoli. Può fare trequartista, può fare attaccante centrale tirandosi fuori. Può fare attaccante esterno sia a destra che a sinistra. Ho parlato con lui, gli ho detto dove lo volevo mettere. Lui è stato disponibile, mi è piaciuto come ha fatto. Onestamente non so se può essere utilizzato come mezzala. Io ho una mezz'idea, mi è balenata, però vediamo. Ora lo voglio sfruttare davanti, perché in questo momento segniamo anche poco. Da un po' di tempo segniamo poco. Ultima. Salve mister. Volevo chiederle, dal punto di vista della brillantezza, forse della difficoltà di alzare il ritmo, come ha visto la squadra fisicamente, atleticamente? E poi avevo la curiosità di capire, lei come gestirà i casi come Quara, che anche giustamente in una gara di Champions esce un po' con la testa bassa, diciamo così. Grazie. Parto dall'ultima, perché la domanda è abbastanza lunga. e sono anziano. Allora, assolutamente. Quara è stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica, ma è normale, è normale che un calciatore possa avere una serata storta. Quara si metterà sotto, lavorerà, non mi è dispiaciuto tatticamente, chiaro gli è mancato, diciamo, il guizzo nel saltare l'uomo, però non ha fatto malissimo tatticamente. Sono abbastanza soddisfatto sotto quell'aspetto. Bene. La brillantezza aveva chiesto. Allora, la squadra, il problema è più mentale che fisico, perché la reazione che abbiamo avuto negli ultimi 20 minuti dice che fisicamente stiamo abbastanza bene. e questo il fatto di aver lottato fino al 95esimo di in qualche senso aver provato anche a vincere la partita, questo mi soddisfa perché la squadra ha ritrovato uno spirito vincente e questo è una buona cosa per il futuro. Grazie e buonanotte. Buonanotte.